Tutto vero ragazzi, Dusan Vlaovic è prossimo a diventare un giocatore della Juventus perché i bianconeri questa mattina hanno definito l'accordo con la Fiorentina un accordo che supererà i 70 milioni, ci saranno dei bonus comunque alla fine della fiera la notizia che vogliono sentirsi dire i tifosi bianconeri è che Dusan stia arrivando a Torino e ve lo confermo totalmente perché Vlaovic è ormai virtualmente, finché non ce l'annuncio, un nuovo giocatore della vecchia signora accordo quindi totale con Iviola che ieri proprio tramite le parole del loro DS a Sport Italia Daniele Pradè avevamo fatto capire di essere pronti a perdere il giocatore già a gennaio per non perderlo potenzialmente a parametro zero nel senso che sappiamo benissimo come il contratto di Vlaovic scadesse con Iviola il 30 giugno 2023 è una scadenza non tanto lontana e mai come in questo caso credo che la volontà del giocatore sia riuscita a consolidare l'asse Torino-Firenze perché in queste ore stiamo vedendo dei messaggi molto brutti da parte anche di alcuni senza generalizzare tifosi delusi della Fiorentina però io lo dico sempre, si parla di calcio e bisognerebbe affrontare il tutto con maggiore serenità, maturità pensando sempre come questo sia un gioco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo ci appassiona, un gioco che per molti magari anche come il mio caso lavoro ma pur sempre gioco, sport, quindi vedere certi messaggi vabbè lascia il tempo che trova ma se andiamo ad analizzare poi anche lo storico recente dei trasferimenti sull'asse Torino-Firenze abbiamo di tutto da Felipe Melo, a Bernardeschi, Chiesa insomma sono state fatte tantissime operazioni negli ultimi anni io credo che business sia sempre il motto quello lì, business is business è vero al tifoso fiorentino da noia a vedere nel bel mezzo della stagione a Vlaovic e a Torino è comprensibile però al tempo stesso la Fiorentina riesce anche a centrare la missione per quanto riguarda il target dei soldi a cui ambiva se ne sono 70 milioni vedremo quelli che saranno attraverso il comunicato ufficiale io credo che nessuno possa dire alcun che alla famiglia che ho ammesso che è riuscito a ottimizzare la partenza di un giocatore che non voleva più stare a Firenze che aveva scadenza contrattuale non tanto in là al tempo stesso questo è un grande segnale di forza da parte della Juve perché ci assicura uno dei migliori nuovi al mondo sicuramente il migliore che si sarebbe potuto assicurare un giocatore che la Juve stimava dai tempi del partizzo a Belgrado ha osservato la sua crescita a Firenze e la sua esplosione poi combacia con il fatto che la Juventus abbia deciso di anticipare questo investimento e quindi di regalare una granissima soddisfazione ai tifosi juventini perché onestamente io ho sempre ripetuto vietato sognare in questi video che vi ho fatto durante questo mese perché era un po' il mantra che filtrava della Juventus ed era poi anche l'assunto delle parole magari della Dima Moritz arriva bene che anche quando aveva fatto il passaggio su Martial è sempre stata abbastanza tenue non si è mai sbottolato ma perché probabilmente la Juventus su determinati giocatori non aveva voglia di investire non aveva voglia di spendere soldi beh sì, lo ha fatto in chiave progettuale con un obiettivo probabilmente vitale per tentare di acciuffare un posto tra le prime quattro in questo campionato e per dare così continuità aziendale perché se vai in Champions è anche continuità aziendale per andare in Champions c'è bisogno di grande competitività considerando poi come la sticella si sia alzata tra i vari Napoli Milan, Inter fa una corsa un po' a sé e la stessa Atalanta quindi io credo che la Juventus abbia fatto capire che se vuole può ancora primeggiare quantomeno tra i confini nostrani assicurandosi l'eccellenza appartenente al nostro campionato e Vlaovic è l'eccellenza proprio in assoluto un giocatore che secondo me sposta concretamente gli equilibri ed è un giocatore che va valorizzato nella manovra anche nel modo di interpretare il calcio perché Vlaovic è un giocatore sanguigno un giocatore che dà tutto un giocatore che se fa un gol esce e si incazza perché non ne ha fatti due quindi è una risorsa è un valore aggiunto e ora la Juventus deve essere brava a fare in modo che Vlaovic metta in mostra a Torino ciò che ha fatto vedere di buono nell'ultimo anno a Firenze vedremo poi in quanti anni la Juventus completerà questo acquisto cioè nel senso in quanti anni darà i soldi alla Fiorentina ma credo che questo non interessi al tifoso juventino al tifoso interessa vedere Vlaovic con la maglia bianconera e lo vedrà perché ve lo ribadisco Juventus e Fiorentina hanno definito l'accordo per il passaggio del forte attaccante serbo qua alla Juventus so già che le domande magari ora saranno ma quando verrà a fare le visite mediche ci saranno le visite mediche vediamo ragazzi anche perché ve lo ricordo la Fiorentina prima dell'ultima partita di campionato ha comunicato la positività di due tesserati legati al gruppo squadra non ha fatto i nomi però poi non sono stati convocati Saponare e Vlaovic e noi abbiamo fatto 2 più 2 e quindi diamo per scontato che possano essere questi due i giocatori purtroppo positivi al Covid quindi vediamo un pochettino monitorate come sempre gol perché siamo sul pezzo in un page abbiamo il mio pezzo che ho scritto questa mattina che stiamo aggiornando con tutti i dettagli di questo accordo tra Juve e Fiorentina lo ribadisco perché è bello dirlo che porta questo accordo Vlaovic a Torino e ora ragazzi spostiamo anche il focus su ciò che potrebbe accadere sul fronte Alvaro Morata perché la Juve l'attaccante per eventualmente ripiazzare Morata lo ha preso l'attaccante è che attaccante c'è il presmi di Xavi sul centravanti iberico sappiamo come Barcellona comunque l'ha davanti non abbia ancora preso nessuno perché probabilmente aspettava di capire come si avvolvesse la strategia di mercato della Juventus se si è entrata che è in uscita e quindi vediamo vediamo un pochettino se il Barcellona sferirà l'offensiva decisiva sfruttando anche il fatto che l'entourage di Morata in queste ore si trovi a Milano e che attenda notizie dalla Juventus che ha completato l'arrivo di Vlaovic che quindi ora potenzialmente può dare anche l'ok per fare in modo che Morata torni nel suo paese nativo attenzione perché il mercato della Juventus non è finito qua assolutamente a me sono state conferme sul fatto che la Juve stia valutando concretamente anche l'opzione Nandets che è un giocatore che è in uscita dal Cagliari un giocatore che sa interpretare più ruoli può fare la mezzala può fare anche il laterale a tutta fascia io credo che questo discorso legato all'uruguaiano sia da associare a magari una potenziale uscita dal centrocampo bianconero l'Aston Villa comunque è sul pezzo è su Bentancur ha mandato anche un suo emissario come vi ho raccontato a San Siro per vederlo da vicino contro il Milan ne ha fatto bene perché Bentancur ha fatto la migliore prestazione stagionale e occhio sempre anche all'Arsenal su Arthur perché comunque quando lavori per tante settimane su una traccia di questo tipo non la vai ad abbandonare così a maggior ragione mi risulta che i Gunners a centrocampo non abbiano ancora preso nessuno e il fatto che comunque la Juve oggi abbia iniziato a valutare concretamente anche l'opzione Landez beh mi fa capire che comunque qualcosina dietro l'angolo ci sia e com'è diciamo le cose possano cambiare rapidamente è successo fortunatamente per i tifosi juventini in che aveva laovic e potrebbero essere finita qui perché comunque la Juve se vuole effettuare una seconda parte di stagione diametralmente opposta rispetto alla prima deve salire di tono deve salire di giri e deve aumentare anche la qualità delle sue performance e a questo punto molto dipenderà se non tutto dai piedi di Vlaovic che si appressa a lasciare la Fiorentina per abbracciare la Juventus accordo fatto accordo raggiunto c'è l'ok anche dello stato maggiore viola e niente credo che oggi i tifosi juventini in questo 25 gennaio possano essere particolarmente felici insomma ragazzi se volete vivere con me questo arrivo di Vlaovic proprio fisicamente a Torino mi raccomando datemi la vostra fiducia come? iscrivendovi al mio canale YouTube alzando la campanella e mettendo like ai miei contenuti probabilmente oggi faremo anche un terzo video di serata con tutti gli aggiornamenti finali però questo è il bello a barra il bellissimo del mercato un abbraccio